e ciao a tutti benvenuti o bentornati sul canale io sono stefania qui su youtube love fersmella in primis buon 2024 ci siamo arrivati e è iniziato da pochi giorni e al momento parlando piano sembra tutto tranquillo come avete passato le feste vi siete divertiti a parte che secondo me penso che più di qualcuno di voi sia ancora in ferie io le inizierò quando voi probabilmente le avrete finite perché come sapete mio marito ha un ristorante di conseguenza si sta ancora lavorando noi facciamo sostanzialmente le ferie quando gli altri le finiscono perciò adesso farò una serie di video dunque se mi vedrete vestita allo stesso modo sappiate che ne sto girando più nello stesso giorno non è che non mi lavi perché mi assicuro che sono una persona pulitissima profumatissima perciò metto le mani avanti detto questo iniziamo l'anno con un video dedicato a profumi esteticamente molto belli io li trovo graziosissimi dal costo contenuto e che sono anche molto interessanti a livello proprio di fragranza parto con un profumo io di solito non vi mostro mai le confezioni perché a meno che non abbiano qualcosa per cui vale la pena appunto di essere mostrate non le mostro e questa è un'eccezione può essere più bella cioè veramente sembra il giardino dell'eden è bellissima bucolica è fantastica e questo è il primo profumo del quale vi parlo oggi ovvero lolita land di lolita lempica appoggio la confezione e vi mostro la boccetta che è bellissima perché è bellissima è così così graziosa è una confezione cioè magica è bucolica è quasi onirica c'è questo bel cervetto con le ali sembra proprio venuto da questo mondo fiabesco è fantastico e anche il profumo vi assicuro che è bellissimo ha un sacco di note in apertura abbiamo bellini mandarino arancia abbiamo pepe abbiamo limone abbiamo pompelmo nel cuore della fragranza tanta frutta poiché abbiamo pesca abbiamo ribes abbiamo gelsomino poi che non è frutta ovviamente e abbiamo magnolia abbiamo rosa e nel cuore della fragranza abbiamo vaniglia liquirizia sandalo e benzoino allora questo è un profumo del quale non sento praticamente mai parlare però è anche vero che è un profumo piuttosto datato è un profumo fortemente fruttato è molto vanigliato appena lo spruzzate sentite proprio in tutta la sua pienezza il profumo della pesca e io ci sento anche qualcosa di vagamente alcolico avendo letto appunto che c'è questa nota di bellini suppongo provenga da quello perché c'è qualcosa di così non so adesso che tipo di se sia prosecco penso sia prosecco il bellini si fa col prosecco il succo di pesca giusto non lo so perché non lo bevo da un bel po' comunque ci sento qualcosa di vagamente alcolico e frizzante si sente molto anche quella che è la parte agrumata infatti respirandolo bene sentite proprio io sento principalmente quello che è il profumo del limone che lo rende più frizzantino va in qualche modo a sgrassarlo come piace dire a me perché poi questo profumo quando si assesta diventa un profumo estremamente vanigliato è una bellissima vaniglia questa è una vaniglia anche lievemente speziata si sente questo pizzicore dato dal pepe che c'è a questa vaniglia anche una buonissima persistenza specialmente per quanto appunto riguarda i vestiti tessuti si aggrappa bene tessuti e dura molto e ha veramente anche una bella durata se teniamo conto che questo è un profumino low cost mi pare che così all'incirca sui 26 30 euro non costa di più direi che è ottimo cioè il rapporto qualità prezzo qui è veramente perfetto cioè ci sta tutto quanto è una bella vaniglia fruttata in cui ciò che predomina su tutto secondo me è il profumo della pesca una pesca pepata una pesca limonosa bello tondo e ricco ricco di vaniglia stavo dicendo per l'appunto che se vi piacciono le vaniglie fruttate questa qui è ciò che fa per voi oltretutto insomma è carinissima il secondo profumo del quale vi parlo oggi cioè è una mia guilty pleasure le mie amiche lo sanno bene perché questo tra l'altro è un regalo di natale perciò grazie laura quanto carino è questo è moschino toy bubblegum cioè è troppo kawaii dai è tutto rosa con queste belle zampine che abbracciano la confezione che lo contiene è bellissimo questo è un fruttato dolce è un tropicale sa di rosa ed è anche un floreale è un profumo che contiene come note di apertura frutta candita limone e arancia amara nel cuore della fragranza abbiamo bubblegum abbiamo rosa abbiamo mirtillo e pesca fiore di pesco cannella e zenzero in base abbiamo muschio ambroxan e legno di cedro è bellissimo è troppo bello cioè mi piace troppo però questo ragazzi è un profumo per i cuori forti appena lo spruzzate è vagamente sintetico perché lo è un pochetto però dopo si assesta è una ventata di profumo di bubblegum e sa letteralmente dei big bubble panna e fragola si sente soprattutto quella che è la nota della fragola io non la sento non è anoverata fra le cioè non l'ho letta fra le note ma la sento perfettamente sa proprio di bubblegum panna e fragola oppure dei chewing gum quelli che stanno nei tubetti che schiacci e che mangia un po alla volta è dolcissimo ma veramente tanto tanto dolce e perciò dico metto le mani un pochino avanti perché mi rendo conto che è una fragranza che non può piacere a tutti se di primo acchito sentite totalmente quello che è il profumo fragoloso del bubblegum poi arriva anche la parte fiorita si sente quello che è proprio il leggero sentore l'effluvio della rosa dunque è un bubblegum floreale alla rosa è decisamente particolare e c'è anche soprattutto in fase di asciugatura un accenno vagamente legnoso non troppo perché la parte proprio preponderante e dominante della fragranza è quella della nota del bubblegum è un profumo molto allegro è un profumo estremamente gioioso è un profumo frizzante decisamente giovanile è molto sbarazzino io lo vedo benissimo questo come diciamo prima fragranza anche da regalare se avete una figlia teenager per esempio perché è veramente tanto tanto giocoso come profumo e ha una pecca nel senso che non dura tanto questo non è che controllato se è uno dei parfum o uno dei toilette però ha questa pecca che non mi dura tanto però cosa volete farci è un profumo spensierato sicuramente non è adatto a questa stagione perché questo è un profumo tipicamente primaverile estivo questo secondo me va bene con il caldo non ora però dai c'è anche solo per vederlo lì è bellissimo questo è un moschino toy bubblegum altra fragranza e anche questo devo dire che è stato un regalo graditissimo e di natale e a quanto pare le mie amiche mi conoscono sanno che amo queste cose cioè che hanno questi design assolutamente ma quanto sono carini può essere più carino di così questo è anna è di blu marine è un profumo che ha come note di testa note fruttate abbiamo la mela e abbiamo la pesca nel cuore della fragranza abbiamo peonia rosa magnolia e gelsomino in base abbiamo moschio vaniglia sandalo e legno di cashmere ecco qui andiamo a spruzzarcelo addosso ragazzi questa è un'esplosione proprio fruttatissima di un profumo estremamente anche questo vanigliato ci sento tanto il profumo della mela è una bella mela verde questa una bella mela croccantina non di quelle particolarmente mature ma forse quasi leggermente acerba colta ancora proprio un pochino prima di maturare quando è bella croccante quando la sentite proprio stridere sotto i vostri denti si sente anche frammesso a questo profumo meraviglioso di mela appena colta e tantissimo quello che è il profumo dei fiori sto cercando di annusarmi io sento tanto più che altro quello che è il profumo del gelsomino arriva il mio naso il profumo del gelsomino faccio fatica a sentire qui il profumo della rosa che si stava per l'appunto dicendo che non riesco a sentire tanto quella che è la nota della rosa che di solito io sento proprio subito in questo caso sento proprio una bellissima combo data da magnolia e gelsomino che è frammessa queste belle note fruttate principalmente mela e pesca è un profumo questo fatto per chi ama i profumi fruttati e vanigliati diciamo che questo è il leitmotiv della giorno dei profumi dei quali vi ho parlato oggi praticamente me ne rendo conto però diciamo che ha un senso no ho raggruppato questi profumini così questo tra l'altro è un profumo estremamente tenero molto romantico mi ricorda un po sapete quando si arrossisce perché si è ricevuto un complimento particolarmente gentile o particolarmente carino mi ricorda il rossore sulle guance è un profumo anche in qualche modo molto romantico lo trovo veramente graziosissimo c'è il pacchetto completo estetica jus tra l'altro e anche il prezzo perché ragazzi costa una ventina d'euro non costa molto di più mi sono dimenticata di dire qualcosa non so se l'ho detto perché sto letteralmente impazzendo però anche qui proiezione ottima durata ottima è un profumo che io vi consiglio caldamente se vi va di avere proprio pacchetto completo all in one provate Anna di blu marina tra l'altro non è un altro di questa collezione che è rosa ve ne parlerò magari sicuramente molto presto io spero che il video vi sia piaciuto che vi abbia fatto compagnia vi prego di iscrivervi al canale se vi piace questo tipo di contenuto e ci vediamo molto presto un bacio grande ciao